E dove finiamo? Cioè, scappiamo da... Guarda! Mi hai notato che questo è il... No, dezooma! Dezooma è epico! È bellissimo! No! Ho notato che fosse il caricatore, capito? Il cavetto del caricatore. Ho dezoomato e mi vedo l'intero iPhone. Non ci credo! Eravamo proprio dentro l'iPhone. E ragazzi, come va? Io sono FeriNiki. Sì, sono Steph. E che si chiama Roblo? E siamo finalmente tornati sugli escape. Questa volta ne abbiamo trovato uno davvero fantastico. Vorrei dire addirittura il più epico di sempre. Perché dovremo scappare da un iPhone 7. Non vado l'ora di iniziare, ragazzi. Sembra davvero epico. Non so se lo notate, ma davanti a noi si vedono proprio delle applicazioni famosissime per cellulare che sono andati in questi anni e noi dovremo scappare da tutte queste app. Quindi secondo me sarà epico. Iniziamo subito. Andiamo, andiamo, andiamo. Dobbiamo fare dei saltellini abbastanza normali. Questi credo siano i circuiti dell'iPhone. Anche secondo me, prima di andare per le app, giustamente, entri in mezzo ai circuiti e poi ti addentri nelle app. E guarda cosa c'è adesso. Snapchat! Che poi a me non piace Snapchat, lo sai. Semplicemente perché non la so usare. Allora, vi raccontiamo la nostra esperienza su Snapchat. Entriamo. Notiamo che l'applicazione è tutta lì. che c'è tipo una cosa per fare foto e poi tipo un mezzo meno strano. Facciamo, ma come funziona? Chiudiamo e disinstalliamo. In quel momento è la prima volta che ho pensato, sto invecchiando. Esatto, esatto. Per la prima volta non ho capito il senso di un'app. O addirittura come funziona. E adesso ci sono le emoji, andiamo. Andiamo, che carine che sono. Questa è la mia faccina. Questa è una di quelle che mi piace di più. Ma, aspetta. E che cosa? Ho paura di andare dall'altra, quindi faccio il giro. Ma questa qua, tu l'hai mai vista. Cioè, l'è una giunta, non c'è. No, esiste. Esiste. Ma è inquietante. È la luna nera. Non è presente la luna nera tra le faccine di WhatsApp? Ma sembra una cosa di sventura. Cioè, tipo, sto venendo a prenderti. Esatto, la luna nera è una cosa di sventura. Non l'ho seguito della trasmissione vecchissima. No. Di quando eravamo bambini. No, mi dispiace. Adesso tocca all'NBA. Quindi al basket. Dobbiamo saltare tra una palla e l'altra. Sembra bellissimo questo. Bellissimo. Tutto di fila. Là. Perché continuo a provarci? I tuoi tutti di fila non vanno mai bene. Io ti dico la verità. Non vanno mai bene. Cadi sempre. Devo migliorare. Non so se avete mai giocato a questo. Ma è piante contro zombie o plants versus zombie se preferiamo. Fantastico. No, anche questo è famosissimo. Tutto di fila. 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 Aspetta. Mi ci impegno. Vai. Sei pronto? Mi stai guardando? Sono prontissimo a vedere qui. Tutto di fila. Ce la faccio. Uno. Due. Tre. Aiuto. Quattro. Cinque. Sei. Yeah. Una persona ti stava seguendo ed è morta. E io però ce l'ho fatta. Quindi no. Non ti credo. Ma slitterio c'è anche per cellulare? Sì. Davvero? Ne abbiamo un giacchetto sempre e solo per computer ma l'hanno fatto anche per cellulare. Credo fosse molto bellino da giocare nel telefono. Sinceramente non ne avevo idea. Oddio. Oh mamma mia. Ma corri veloce. Uh. Aiuto. Come fai? Come fai? È complicatissima questa. Credo che non devi usare la doppia vino avanti ma farti trasportare. Così vai relativamente più lento. Ah ok. Hai ragione. Capito. Ma qui vai veloce. Sì. È il secondo. Che ansia. No. Di nuovo? Sì. Di nuovo. Allora. Io vado in tutta velocità. Vai. Uh. Vai. Mamma mia quanto rischiato. Vai. Ce l'hai fatta? Sì. Bravissima. Twitter. Twitter veloce. Tutto di fila. 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 Ok. Ce l'hai fatta? Sì. Finalmente un tuo tutto di fila che va a buon fine. Io so che a questo non hai giocato perché se ricordo bene constava 80 centesimi ed è stata una delle prime applicazioni per iPhone perché io il primo telefono smartphone che ho avuto è stato un iPhone poi sono passata ad Android ma ho avuto all'inizio un iPhone e si chiama Mi sta raccontando la storia della famiglia. Doodle Jump ed è bellissimo. Non l'ho conosco. Io lo amo. Non l'ho conosco. Io lo amo tantissimo. No il fatto è che tu ok come primo telefono hai avuto uno smartphone però io diciamo che l'unico smartphone decente che ho mai avuto è quello che ho adesso. Quindi in pratica non è che avessi molte possibilità di giocare alle app con dei telefoni che non le reggevano. Ho capito. Il problema principale è stato quello. Dico solo che il prossimo ha delle Pokéball. Quindi Pokémon GO giustamente. Quindi muoviti ad arrampicarti grazie. È super aggiornato perché Pokémon GO è di quest'estate. Sì ma infatti è nuova l'app. È un'aggiornata. Ah è nuovo. Sì. Non ho letto la data prima di entrare. Credo. Uh belle queste Pokéball. Eh sì. E poi in discesa è sempre un po' più complicato. Forza. Ma poi sono belle distanti tra di loro eh. Non è semplice. Opla. Opla. Guardami. Non so se adesso cado. Fai piano. Vieni 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 vieni. Non te la spoilerò. Che cos'è? Voglio saperlo. Muoviti muoviti muoviti. Arrivo. È un'app che noi usiamo tantissimo. Netflix. Adoro Netflix. È bellissima. E che cos'è quella dopo? Non lo so. Uber. Ah ok. L'applicazione è quella che fa da taxi praticamente. No ma è usata perché non mi fido delle persone. Justamente. Preferisco. No poi in Italia è usata poco. Fuori viene usata tantissimo. Praticamente voi avete un'applicazione e arriva gente a caso che vi prende in macchina e vi rapisce. No praticamente esatto. Tu nell'app dici tipo devo arrivare lì. Ok. E vi rapisce. No. E arrivano persone che magari stanno facendo quello stesso percorso e ti danno il passaggio. Però cioè io non è che mi fido. Capito? Cioè preferisco farla a piedi a quel punto. Addirittura. Sì ci puoi contare. Faccio di andare lontano. Allora questo è un labirinto di circuiti. Infatti seguimi. Io sono un esperto di labirinti. Sei sicuro di esserlo? Sì sì sì. Guarda. Guarda guarda qua c'è l'uscita lo so già. Anche se non la vedo so già che c'è l'uscita. Secondo me rimaniamo incastrati e lo dobbiamo rifare tutto da capo. E infatti guarda. No 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 tranquilla tranquilla. Ok mi hai fatto andare in un piccolo cieco. No no infatti non mi hai seguito bene perché se vedi io ero andato qua. Ma se io sono dietro. E adesso qua c'è l'uscita eccola. Io sono dietro di te tutto il tempo e sbagliato. Devi dire grazie padrone per avermi portato fino a qui. Ah ti butto di sotto. Oh che carino questo. Cut and Rob tipo che sarebbe taglia la fune e una roba del genere. E come fai a ricordarti anche i nomi? Ma lo spieghi? Ho inventato. Ma sei saltato tantissimo. Non me l'aspettavo. Mi sono spaventata perché. Non me l'aspettavo. Sto caduto di sotto. Angry, angry, bad hurts. Angry, angry, bad hurts. C'è bisogno di cantare? Sì perché è troppo bellino e quindi devo fare una canzoncina carina. Comunque ci sono proprio tutte le app. Proprio tutte. È incredibile. È incredibile sì sì sì. Uh questo è un po' difficile. Aiuto iniziano ad essere un po' piccoli nelle teste. Anche a questo ho giocato quello dopo. Qual è? Anche tu non ci hai mai giocato. Ma ce li hai giocati tu. Allora, no aspetta però. Perché iniziamo a saltare? Allora che dobbiamo fare? Aspetta, questo non lo conosco. Ok. Questo Blonstie D4. Mai visto. Ok. Però conosco quello dopo. Quindi andiamo. Ah ma quello l'ho giocato anch'io quello dopo. Davvero? Sì sì, lo giocavamo assieme. Come fai non ricordato? Lo sai che non mi ricordo delle cose fatte assieme. Come hai fatto a morire? Ecco sì, esatto. Ho capito. Eccoci. Questo è bello. Bisognava saltare. Cioè. No, ma va veloce davvero. Esatto. Dovevi andare praticamente con lo skate in mezzo a questi binari e schivare tutti questi tram. Mi porto voglia di rigiocarci. Sì, è bellissimo. Vero? Andiamo. Andiamo, andiamo, andiamo. Mi sono già schiantata. È difficile. Oh no. È difficile. Allora, facciamo così. Non si può frenare. Quindi tutto in avanti fino a quando non ci riusciamo. In un'ora di questa app. È bellissima. Ok. Aiuto. Ce l'ho fatta. Ce l'ho fatta. Non ho frenato. Non ho frenato. Ce l'ho fatta. Io ho curvato troppo presto a sinistra. Allora, devi capire. Devi guardare bene dritto davanti a te e vedere prima. Mi stai cercando di spiegarmi come si fa. Sì, vedere bene le curve e farle in anticipo. Vedi che non ci riesci. Quindi hai bisogno di una spiegazione. Scusami. Non vorrò mai una tua spiegazione, mia cara. Scusami. Non l'accetto. Sta arrivando. Sta arrivando. Adesso ce la faccio. Ti guardo. E ti vedo arrivare in pezzetti. No. No, ragazzi. Allora, vediamo se la tattica che ci hanno spiegato i consolini funziona. No, in questo non funziona. No, secondo me quella tattica funzionava solo in quell'altro hobby. Allora, due volte centro. Adesso... Chi sceglie? Ok. Ok, non è quello? Ok. Aiuto. Centro, centro, destra, sinistra, per forza. Sinistra, sinistra. Oh, yes. Non c'era neanche uno sinistra. Mi mette sempre ansia, guarda. Questa? Ah, geometri dash. Dash, dash, non mi ricordo. Vabbè, bellissime. No. 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 No, non mi fate fare questa cosa. Ti rendi conto che all'inizio non si muove, ma poi sì? Ah, è difficile. E tu non te l'aspetti. È troppo difficile questo escape. Concentrati. Andiamo. Ok, andiamo. Andiamo. Andiamo, forza. Ma dobbiamo saltare, secondo te? Eh, un po' sì. Ah, ce l'ho fatta. Brava. Oggi è felinichia in forma. Eh, lo so. Non so come. Non so come i miei riflessi. Guarda la tattica del nostro consolino. Praticamente tu salti tutto. No, io l'ho fatto tutto dritto, però l'ho fatto tutto dritto. Eh, mia cara. Ti dicevo, oggi per una volta probabilmente i miei riflessi stanno funzionando, quindi per quello che ci sto riuscendo. È una cosa di speciale, ma abbiamo finito. Abbiamo finito. Sì, dai, non vedo altri livelli. Sì. Allora, prendiamo un checkpoint. Yeah. Eh, ma. E dove finiamo? Cioè, scappiamo da... Guarda! Mi hai notato che questo è il... No, dezooma, dezooma. No! È bellissimo! No! Ho notato che fosse il caricatore, capito? Il cavetto del caricatore. Ho dezoomato e mi vedo l'intero iPhone. Non ci credo. Eravamo proprio dentro l'iPhone. È bellissimo, è bellissimo come l'hanno fatto, ti giuro. E poi andare alla fine della mappa con il caricatore è la cosa più geniale di sempre. È bellissimo. Fantastico. Mi piace davvero tantissimo come l'hanno pensato, cioè come ho dezoomato e ho visto l'iPhone e ho detto no, non ci credo. Mettiti tutto a dezoomato, sembriamo delle formiche. E beh, certo, era un iPhone davvero... No, no, allora calmati un secondo che dobbiamo arrivare alla fine. Scusate, fateci finire per favore. Fateci passare, fateci finire. Fate da bravi. Anche perché è davvero lunga questa strada. Se cadi poi te la devi rifare tutta, quindi... Sì, credo sia la fine dei disgraziati, nel senso che se tu qua vuoi fare un po' l'antipatico... Fai cadere tutti. ...ti ci metti, fai cadere tutti e per sempre non riusciranno a finire la mappa. Esatto, e rimani dentro un iPhone a vita. Quasi, quasi. A vita. No, non ci provare. Finito questo escape. E guarda quanta roba bellissima c'è. Ma qua si balla? Balliamo, balliamo. Io mi ricordo... Il tasto, sì. Aspetta. Yeah! Guarda come ballo. Il mio non balla. Il balleri. È già finito, ragazzi. Neanche avvenuto. No, 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 no. Questo l'ho visto soltanto in una volta, in una mappa che ancora non abbiamo fatto uscire. Ed è la cosa più bella del mondo. Oh, mamma mia. È bellissimo. Io non avevo mai visto sto cappello. È bellissimo. E sai dove si trova? Dove? Nel Take 1 di Willy Wonka, che noi dobbiamo fare perché io l'ho già provato. Lo dobbiamo fare e c'è questo cappello da prendere. È troppo bello. No, è bellissimo. È uno dei capelli più belli che io abbia mai messo. Adesso mi cambio anche il corpo. Cosa divento? Ah, ci sono i corpi? Sì. Come c'è il tuo? Guarda questo. Ci sei tu. Allora voglio diventare te. Togliti, togliti. Vai. Ah, eccoti. Guarda qui vicino come te. È bellissimo. Non l'avevo mai visto il tuo. È bellissimo. È vero, è la prima volta che lo troviamo. Io mi metto... Adesso voglio diventare... Oggi faccio il bulletto con questo. Oh, sono gigantesco. Ma guardami. Sono un polipo gigantesco. Cosa ti sei messo? Non lo so. Mi sembrava bellino, invece non lo è. Questo voglio. Voglio essere un cavaliere con un polpo in testa. Allora, e adesso che sono esteticamente bellissimo. È tutto pronto? Voglio la Speed 300. Oh, no. No, ragazzi. Allora, guardami. Ok. Perché solo con il Rainbow Path posso sopravvivere. Vado? Ok, vai. Aspetta che la prendo anch'io. Oh, Dio. Ok. No, sono sopra l'iPhone. Sono sopra l'iPhone. No, è troppo difficile. Ho preso troppa Speed. Aiutami. Allora, Rainbow Path. Vado. Scusate. Guardami, sono dietro di te. Ma sei troppo veloci. Ma si può andare sopra l'iPhone? Sì, sì, sì. Ci vediamo sopra l'iPhone. Ok? Sì, ci sono. Arrivo. Fantastico. Vieni. Dove sei? Qui sopra. Aiuto. Scendi, scendi. Ah, si può scendere? Certo. Pensavo di morire. Attenta, però. Aiuto, aiuto. Non sei riuscito a frenare? Perché devi anche frenare, capito? Oh, mamma mia. Sembra di essere in una pista di patinaggio di ghiaccio. Perché siamo talmente veloci. Sì, siamo troppo veloci. Troppo, troppo, troppo. Qua c'è la fotocamera, il coso per sentire le telefonate. E invece, da questa parte, spero di riuscire a frenare. Ok. Attento. Ebbè, c'è solamente il tasto centrale. Che adesso premio, guardami. Vai. Aspetta. Uè. Chi è lei? Mi ha copiato. Mi ha copiato il look, signorino. Allora, ragazzi. Ci veniamo così, dato che abbiamo finito questo escape. Come potete vedere, questa volta è uscito un solo escape e non due. Semplicemente perché questo era davvero fantastico. E non volevamo tagliare delle parti davvero bellissime. In ogni caso, la prossima volta che facciamo gli escape saranno di nuovo due. E di sicuro uno dei due sarà McDonald's escape. Perché ce l'avete chiesto in tantissimi. Esatto. E non vediamo l'ora di farlo. Dovevamo farlo oggi, ma appena abbiamo visto questa mappa abbiamo fatto... No, vabbè, è fantastica, ragazzi. È stata davvero troppo bella e troppo divertente da giocare. E molti livelli difficili che ho apprezzato. Sì. Finalmente è un po' diverso dai soliti escape. Quindi l'ho apprezzata davvero tanto. E guarda tutti i consolini. Sesta. Spero che ci succede così. Se è il sito, scelteci un like. E se è la prima volta che vedete il nostro video, potete considerare l'idea di iscrivervi per non perdervi gli altri episodi. Ciao, alla prossima. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.